Se volete acquistare crediti passate dal link in descrizione Pagina Facebook, sono italiani, economici, veloci e affidabili Link in descrizione E se vi servono PSN Card, Xbox Gift oppure PlayStation Plus oppure Xbox Gold Potete trovare il link qui in descrizione G2A, sono veloci, sicuri e affidabili Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot Io sono Joey Spot dello staff di NMF Benvenuti nella player review di Ciro Immobile nella sua versione SIF con 86 di rating Ve l'avevo detto e vi porto la sua player review Ma prima di continuare vi invito a lasciare almeno 80 like, mi piace per Ciro nella sua versione SIF E condividere questo video, iscrivervi al nostro canale YouTube e Telegram, link in descrizione Mettere mi piace alla nostra pagina Facebook Andare nella sezione Community dove ogni tanto posterò dei sondaggi o altro ancora Seguirci su Instagram e ragazzi condividere ancora una volta questo video Ciro in questa versione, diciamo, poteva andare meglio Preferisco sinceramente la sua versione in form Ma veniamo ai suoi pro Il primo assolutamente il tiro Ha un 89 in generale Ma dalla distanza presenta un piccolo contro Secondo me, non ha un tiro precisissimo dalla distanza Sottoporta riesce a finalizzare Anche se a volte mi prendeva dei pali Ha una potenza tiro che secondo me è elevatissima Cioè, in game, se caricate 3 tacche, 2 tacche e mezzo Vi tira un tiro potente Sì, ma che va alto Ed è una cosa che a me ha dato un po' fastidio Come altro pro però il passaggio Abbiamo un 69 in generale Mi ha fatto tanti assist 7 o 8 se non sbaglio In 10 partite Che per un attaccante secondo me sono davvero tantissimi Ed è una cosa che a me è piaciuta di questa carta Nonostante abbia dei valori bassi in carta Però l'appunto in game dimostra tutt'altro secondo me Come altro pro devo dire il colpo di testa 83 elevazione, 84 precisione di testa Tutto sommato, unità anche all'altezza 135 centimetri Ha un colpo di testa molto molto interessante Mettendo a paragone lui e Kane Kane secondo me, Kane toti eh Ha un colpo di testa inferiore a Immobile Sif Immobile Sif saltava bene La colpiva bene di testa Anche pressato Invece Kane di meno, di meno ragazzi Come Warcrets abbiamo alto medio È buono per un attaccante Come piede preferito il destro E 4 stelle piede debole Le 4 stelle per me sono tutto sommato un bel pro Come contro abbiamo secondo me l'equilibrio Che è un piccolo contro che fa parte del dribbling 83 in generale L'agilità comunque è buona Controllo palla è discreto Dribbling puro passabile 3 stelle skill Vabbè ci stanno comunque non è proprio un dribblatore Chissà che è un equilibrio da rivedere secondo me Come altro piccolo contro gli do la resistenza Perché comunque è un giocatore Che verso il settantesimo, il settantacinquesimo Inizia a correre davvero di meno Rispetto anche al resto della squadra Rispetto anche a un Kane Tutti E si vede proprio questa differenza Io la sento proprio questa differenza Una forza fisica buona 80 in kart La aggressività anche è buona secondo me Come velocità 85 80 accelerazione Ovvero la partenza iniziale 89 velocità scatto Ovvero la partenza tra virgolette finale Ovvero la velocità massima A cui un giocatore arriva Tutto sommato in generale ha una velocità buona Questa velocità massima Non l'ho vista più di tanto secondo me Come alternativa vi dico Lukaku Tra le Icon Sheva 88 Nella Nazione Belotti Nella Lega Higuain Dello stesso livello Lukaku Inform Come stile in testa qualcosa che vado ad aumentare Il long shot è l'equilibrio Come prezzo 120.000 crediti circa Per PS4 E' un prezzo Tutto sommato E onestamente parlando Un filino altino E' una carta da provare? Ragazzi vi dico di no Perché è simile alla versione in form Versione in form che io ho nel club E che tutto sommato mi è sembrato davvero simile E costa 40.000 crediti Quindi quasi 80.000 crediti in meno E per 80.000 crediti Secondo me non conviene prendere la sua versione SIF Ma nonostante ciò Per me il suo voto finale E' un 8,5 E' un voto buonissimo A parer mio Perché Immobile SIF E' un giocatore buono All'inizio ho avuto difficoltà Nel segnare Nel fare altre cose Però poi ho capito un attimo Il suo funzionamento E ho capito come utilizzarlo Di per sé rimane una buona carta Una buonissima carta Ma paragonando la sua versione in form Ha davvero troppe troppe Uguaglianze secondo me Ditemi cosa ne pensate di questa review Condividete questo video Iscrivetevi al canale Mettete mi piace Queggiovispo Vi saluta e vi ringrazia Ciao belli